Le navi sono in attesa di entrare nel porto per caricare o scaricare e la sera vedere queste immagini di queste navi, tutte illuminate come fosse Natale, è una cosa che mette un pochettino di ansia nel cuore, ma comunque è bello, è veramente bello. Sta montando l'Ibecio e Nova. Salute, arrivederci.